E poi, vieni davanti ragazzi, sennò non si vengono su qua. Allora, mi sapevo di sanare la ricerca di errore con la gente. Poi fare testa e invece ci diciamo adesso ci facciamo male. Se viene con noi ci facciamo tutti del ferro. Ovviamente ragazzi, stiamo qui per starvi del ferro, non per starvi del nuovo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.